E' cominciato il campionato di Serie C femminile in Puglia con le squadre in casa, vittoriosa in 4 gare su 5. Successi larghi di Pink Bari su Galaxy Brindisi nell'incontro a cui si riferiscono le immagini, 3R Brindisi su Olimpia Mesani e Intrepida Brindisi nel derby cittadino contro Futura che giocava in casa. Più tirate le gare di Grottaglie dove Lara ha sconfitto Paradiso Service Santeramo e Taranto con De Florio che ha avuto la meglio su San Pietro. 4 i posti in palio per salire di categoria, Intrepida, Futura, De Florio e Pink si contenderanno a 2 posti per accedere agli spareggi promozioni in A2, mentre le migliori 2 fra le restanti 6 squadre avranno diritto di partecipare al prossimo campionato di B. Intanto già per la stagione in corso in preparazione anche Coppa Puglia e promozione, novità assoluta.